Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e finalmente è arrivato quel momento dell'anno dove io vi racconto un po' l'oroscopo del 2021, infatti benvenuti e benvenute nell'orosco fiction io sono davvero super carica, sarà un video lunghissimo, vi premetto perché sono tante le cose da dire, tanti segni e come al solito per chi non avesse seguito quello dell'anno scorso, per chi non sapesse come funziona piccola breve guida introduttiva innanzitutto l'oroscopo fiction funziona in questo modo, io vi faccio l'oroscopo e vi do dei consigli di lettura che sono un po' inerenti a ciò che succederà nel vostro 2021 o comunque sono in generale letture che hanno a che fare con le tematiche sulle quali dovete lavorare o che faranno parte del vostro 2021 ovviamente l'intento è chiaramente intrattenitivo, io non faccio l'astrologa nella vita ma in generale ho una grande passione per l'astrologia e quindi insomma se mi seguite da un po' sapete che queste cosine a me intrigano moltissimo io voglio sapere alla fine del video, insomma alla fine del vostro oroscopo cosa ne pensate, ci sentiamo giù nei commenti così ci confrontiamo e come sempre ricordate anche che le anomalie nello zodiaco esistono, nell'astrologia ci sono anche cose che non tornano non vi preoccupate, può succedere. Detto ciò io direi di iniziare io sono già anche in outfit stellare perché ovviamente si addice al caso ma bando alle ciance direi di iniziare perché insomma i segni sono tanti e le cose che ho da dire sono molte beh direi di iniziare come sempre perché si parte dal primo segno del nostro cielo ovvero la riete la riete di per sé è sempre in cerca di nuove sfide, nuove strade da percorrere è molto alla ricerca di nuovi stimoli negli ultimi anni e queste sfide nelle quali vi siete cimentati però non sempre sono state guidate dalla voglia di migliorare dalla voglia di superare voi stessi ma più che altro dalla voglia di farsi vedere farsi vedere nelle proprie performance insomma l'obiettivo finale era soprattutto quello di rincorrere il successo e mettersi in mostra cioè sentirsi gratificati ho un problema nel senso che questo maschile plurale mi continua a triggerare moltissimo ma lo useremo per tutto il video perché ahimè non ho soluzioni se non raddoppiare tutto cioè quello che sto cercando di dire è che era tutto più votato al venire riconosciuti come bravi come brave come insomma capaci di fare cose più che alla voglia stessa di fare queste cose e in fondo non sono nemmeno mancate le badilate in faccia perché sono anche una conseguenza di questo atteggiamento e in più è stato il 2020 quindi insomma cioè non possono mancare quello che vi dico io per il 2021 è che dovete iniziare a pensare al prossimo anno e a quelli successivi come un periodo di trasformazione per voi una sorta di metamorfosi che vi vedrà al centro e che durerà per diverso tempo però possiamo dire che il peggio è alle spalle cioè su questo ne abbiamo la certezza e io qua lo dico con il terrore negli occhi per alcune cose affermate nel vecchio Rosco Fiction ma ok anche perché nel corso di questi anni dove avete voluto insomma un po' sfidare voi stessi magari per i motivi non più giusti però allo stesso tempo avete cercato di capire meglio chi siete che strada volete intraprendere e quale sarà il vostro percorso o magari per chi non ce l'aveva così chiaro mettere a fuoco le possibilità e mettere a fuoco invece le opzioni migliori è stato il lavoro su cui avete davvero speso più tempo insomma dovete pensare proprio al 2021 con gli ultimi strascichi del 2020 come l'anno nel quale alla fine voi concretizzerete un pochino questo lavoro che avete fatto con voi stessi queste sfide che vi siete lanciati che a un certo punto sembreranno concretizzarsi un po' di più in fondo quest'anno dovete un po' pensarlo come un viaggio verso lande un po' inesplorate no? si fatica un po' meno ma si portano a casa più risultati si ottiene di più proprio perché Giove e Saturno si ottiene un po' di più proprio perché Giove e Saturno che negli ultimi anni vi hanno fatto faticare un sacco perché erano in opposizione entrano in favore e quindi diciamo la loro energia cambia totalmente prospettiva è un ottimo momento se volete trovare attività più appaganti per stringere amicizie o legami in generale che siano sentimentali, lavorativi, di circostanza quello che volete però che siano più gratificanti e più appaganti per voi anche perché avete un po' riscoperto in questi mesi la vostra necessità un po' come tutti gli altri segni ma voi in particolare la vostra necessità di stare insieme, di fare comunità consiglio anche se questo può apparire super esaltante perché effettivamente lo è però cercate sempre di centellinarvi, di non spendervi troppo di non venire travolti e travolte da questa foga di fare tutto, di avere tutto perché il problema sarà un po' la gestione di tutti questi rapporti, di questi progetti, di questi esperimenti fatelo chiaramente, buttatevi ma abbiate senso della misura perché in fondo vi darà coraggio, fiducia e ottimismo un po' questa nuova fase però potreste in qualche modo diciamo sopravvalutare quello che realmente riuscirete a gestire che magari diventerà troppo a un certo punto quindi fatelo però abbiate un programma cercate anche di tenere conto dei vostri tempi, dei vostri spazi e di quanto siete effettivamente ben disposti nel fare qualcosa andate sempre su progetti che possono stimolarvi, incoraggiarvi, aprirvi nuove strade non abbiate paura, quello buttatevi ecco magari quelle cose sulle quali non siete convinte le cose che ritenete marginali per il momento accantonatele poi se si riveleranno più importanti di quello che sembrano li ripescherete in seguito ovviamente quando Giove entra in favore il tema della crescita, dello sviluppo e dell'espansione si fa un tema centrale nell'oroscopo le opportunità infatti non mancheranno tra le aree che diciamo sono in espansione cioè quelle diciamo positive dalle quali ovviamente potrete ottenere i maggiori benefici sono amicizia, speranze, sogni, concretizzazione comunità e amicizia reddito che non è male spiritualità cioè vi sentirete anche a un certo punto molto connessi con quelli che sono i vostri desideri e le vostre spinte interiori e il vostro benessere mentale ed emotivo questi sono tutte aree e temi sulle quali lavorerete sulle quali vi concentrerete quindi questo è l'anno dove ci si libera della paura di sbagliare che non ci appartiene più perché io parlo come se fosse una rete non vi appartiene più e vi incoraggio a intraprendere missioni imprese, progetti che fino a ieri pensavate fossero impossibili per questo le vostre letture sono This is how you lose the time war ovvero così è come si perde la guerra del tempo di Amare il Motar che è un libro di un'impresa fondamentalmente folle e impossibile visto addirittura da due prospettive diverse che non si incontrano mai eppure succedono cose tante io avrei voluto vederne anche di più ma questo è un parere personale è un libro bellissimo scritto divinamente che io vi consiglio soprattutto perché dovete tenere a mente che se due persone si possano innamorare tramite dei bigliettini lasciati in pianeti diversi nello spazio e nel tempo voi potrete farcela potrete farcela fare qualsiasi cosa che sia leggermente sotto questo gradino l'altro libro che vi consiglio in realtà è un libro molto leggero molto carino che si chiama Non esistono piccole storie che ha un seguito che è Non esistono piccole donne di Johannes Bückler che è edito da People è un libro dove l'autore ha raccolto tutta la serie di tweet che ha pubblicato negli anni e ne ha scritti diversi insomma immaginatevi queste storie scritte con 140 caratteri disponibili e insomma dei thread di 140 caratteri in tutte queste storie scopriamo davvero tantissimi valori la parola che quest'anno forse ha dominato di più è la resilienza però io non amo usarlo io la chiamo resistenza anche se ha ovviamente un significato leggermente diverso però in questo volumetto voi trovate tantissime storie di uomini e di donne che da veramente condizioni abbastanza difficili oppure senza aiuti esterni eccetera sono riusciti a portare a casa qualcosa sono riusciti a cambiare sono riusciti a trasformarsi sono riusciti ad avere un impatto io vi auguro di non essere mai una piccola storia soprattutto nel 2021 passiamo agli amici e alle amiche del toro così mi sento anche proprio super Tiffany Fox and the stars perché qua facciamo un blend di tutto perché bisogna chiamare amici allora detto ciò il toro viene da un periodo dove davvero ha bisogno che a un certo punto tutte le sue fatiche i suoi sforzi abbiano o vedano un riconoscimento perché in fondo ve lo meritate e perché in fondo ve lo meritate e allo stesso tempo voi vi bilanciate tra questo bisogno di essere un po' riconosciuti ottenere un pochino questa gratificazione ecco perché così potete dare un po' di contentino al vostro bisogno di concretezza insomma siete persone che hanno bisogno di stabilità e di avere molte certezze che però si scontrano anche con invece la vostra voglia di essere un po' creativi sperimentali insomma di provare a uscire un po' fuori dal guscio però ovviamente senza questi elementi avete fatto un po' fatica il 2021 secondo me per i toro sarà un anno di grande crescita in modo positivo peraltro vi spingerà a fare da un lato scelte più libere però anche a dimostrare quanto siete cresciuti quanto siete diventate persone più mature che hanno un po' abbracciato questa sorta di responsabilità dell'età adulta che secondo me è da rifuggire a tutti i costi ma comunque al figlio a un certo punto vi troverete ad avere proprio bisogno di dare una svolta decisiva a ciò che state facendo un po' perché sentite la necessità di essere riconosciuti e in fondo ottenere quello che rende merito a tutti gli sforzi che avete fatto in questi in questi anni però invece per tanti altri sarà la necessità di provare a scoprire qualcosa di nuovo perché in fondo avete un po' bisogno e sentite quella necessità di rimettervi in moto di avere nuovi stimoli di risvegliare l'entusiasmo che avete sentito un po' sopito queste due saranno un po' le esigenze che governeranno il toro nel 2021 ovvero per alcune persone sarà affermare il proprio ruolo vedersi riconosciuti non accontentarsi e puntare magari anche più in altro per altre invece sarà quello di affermare il proprio desiderio di cambiamento perché si è raggiunto un livello tale dove quella è la nuova necessità soprattutto in ambito lavorativo ma anche in ambito sentimentale insomma anche in questo caso Giove è salito in cima alla vostra carta solare quindi le vostre ambizioni stanno sbocciando ambizioni che hanno bisogno di stimoli molto concreti infatti le vostre aree destinate ad espandersi secondo l'oroscopo nel 2021 sono la carriera lo status la vostra reputazione e insomma il modo in cui vi ponete con gli altri le amicizie anche il bisogno di comunità di socialità eccetera e i vostri obiettivi quindi insomma ci sono tutte cose che tornano abbastanza nel lavoro di questi ultimi due anni proseguite con una sferzata di proprio tranquillità che a voi spaventa a volte non abbiate paura quindi ci vogliono letture che siano legate a un lavoro che dà i suoi frutti anche se io non credo nel concetto di merito perché è un concetto capitalista e classista che identifica nel valore produttivo delle persone o nella capacità produttiva delle persone il loro valore ma non è questo il punto i miei consigli per voi sono due il primo è The Edible Woman in italiano La Donna da Mangiare di Margaret Atwood The Edible Woman è un romanzo che io vi consiglio perché al di là del fatto che è scritto da Atwood e quindi noi fan ma soprattutto perché ragiona sul concetto dei ruoli dei ruoli che a volte ci stanno strette dei ruoli che ci lasciano confuse dei ruoli che a un certo punto ci sentiamo di distanziare da noi al 100% o dei quali forse possiamo imparare a vederli e a gestirli in altro modo per me è una perfetta metafora di quello che potrebbe essere il vostro percorso e soprattutto ragiona sulla dominazione sui rapporti gerarchici eccetera secondo me voi su questi punti dovete avere molta più chiarezza di quanta ne abbiate avuta fino ad ora ed è quello sul quale dovete lavorare nel 2021 quindi perfetto l'altro libro invece che vi consiglio è Club Godot di Jeune Pla che mi avete visto insomma anche intervistare perché? perché secondo me voi a un certo punto dovete un attimo imparare a godervela un po' di più da un lato Club Godot vi insegnerà anche un po' di cose sicuramente utili che potrebbero essere una delle nuove spinte sulle tematiche che dovete un po' lavorare nel 2021 ma soprattutto è la prospettiva che secondo me è quella perfettamente giusta fino ad ora avete visto sempre le cose in un modo è ora che iniziamo ad espandere il discorso ed è ora che iniziamo a vedere anche prospettive che non avevate calcolato che possono essere un grande stimolo per voi l'anno prossimo direi che insomma siamo arrivati alla fine del toro in bocca al lupo passiamo ai gemelli che è ovviamente il nostro segno preferito cioè solo dai gemelli è il segno preferito dei gemelli vabbè non è che lo dico perché sono di parte perché sono gemelli ascendente gemelli ma sì comunque questo sarà un grande anno raga almeno una gioia ce la diamo quindi ok adesso torno a seria partiamo subito bene perché un po' come era successo ai due segni precedenti che sono vicino a noi nello zodiaco giove e saturno diventano a favore quindi smettono di essere tendenzialmente in opposizione anche se stavano pian piano allentando negli ultimi mesi infatti giove e saturno transitano nella nona casa che non è una coincidenza vogliamo dirlo ma lo diremo è una coincidenza io non credo però scusate adesso ve lo giuro che lo faccio serio anche ai gemelli è che è difficile allora praticamente negli ultimi anni avere in opposizione giove e saturno è stato molto complicato perché soprattutto i gemelli che come me faticano a sedersi in situazioni siamo tendenzialmente irrequiete come persone cioè è difficile che ci facciamo andare bene una cosa per lungo tempo anche se non è propriamente così negli ultimi anni un pochino noi abbiamo sentito la necessità di provare a sederci provare un attimo ad accomodarci anche in situazioni che però non si sono rivelate adatte proprio a noi che non ci hanno fatto stare bene e la vivo molto questa situazione ce l'ho proprio chiara qua vabbè ok torniamo a noi cioè insomma ci siamo accomodati in situazioni che erano tutto tranne che comode però ora che giove e saturno transitano nella nonna casa diciamo che è la casa che rappresenta non solo lì Bardugo e non solo Gideon la nonna ok chissà come mai sono nelle mie spalle ma soprattutto perché è la casa che rappresenta diciamo quello che non è ancora conosciuto l'estero no e quindi praticamente tutti i posti dove non siamo stati non solo a livello fisico non solo a livello geografico insomma è ciò che ci spinge oltre la nostra routine e oltre la nostra comfort zone che io non so se esista però a quanto pare c'è questo è proprio l'anno che ci porta altrove bisogna ritrovare un po' quel senso di ottimismo di speranza di possibilità che tendenzialmente è quell'idea che per i gemelli cinici come me fa un po' schifo e sinceramente è difficile da abbracciare non con cinismo ma ogni tanto servono cioè a un certo punto ci dobbiamo arrivare lì è l'anno dove più che mai c'è bisogno di valorizzarsi che vabbè io rito perché con l'ego dei gemelli vabbè e lavorare moltissimo chiedendosi dove voglio andare cosa voglio fare chi voglio avere al mio fianco con chi sto meglio insomma lavoreremo moltissimo sul sintonizzarci più sui nostri desideri che un pochino avevamo messo da parte per provare situazioni che ci facevano sentire forse più tranquilli ma non credo neanche lo sapevamo anche noi lo sapevamo è stato un esperimento bene è fallito quindi concentreremo il 2021 soprattutto sull'espandere la nostra voglia di sperimentazione la nostra voglia di conoscenze di esplorazione e anche un po' di avventura perché in fondo non ci manca questa caratteristica insomma ci sentiremo un po' più coraggiosi ma anche un po' più proprio carichi di buttarci su qualcosa che sta là fuori che sia un viaggio come spero vi auguro insomma di fare l'anno prossimo ma che siano anche altre esperienze che volete magari sperimentare che sia l'approfondimento che sia l'imparare qualcosa che sia il seguire qualcosa di nuovo che sia proprio buttarsi su un nuovo progetto ecco secondo me il 2021 sarà l'anno dove un po' ci butteremo magari a piccoli passi ma lo faremo allora le aree che sono in espansione nel 2021 sui gemelli sono la condivisione della conoscenza quindi ci sentiremo un po' più comunicativi quindi torneremo un po' a contatto con quella che è la nostra natura donata dal nostro pianeta mercurio l'apprendimento gli spostamenti quindi i viaggi magari l'espansione degli orizzonti personali la carriera e la reputazione beh non è male quindi io rega voglio darvi dei consigli di lettura che sono assolutamente inerenti a questa voglia di esplorazione e che rispecchiano il viaggio non come un viaggio fisico e basta ma come un viaggio alla scoperta di qualcosa di nuovo che ci dà delle nuove prospettive allora il primo che vi consiglio è to travel light in italiano il viaggio di alla di Naomi Mitchinson perché noi abbiamo bisogno di imparare a viaggiare leggere abbiamo bisogno di scoprire tramite la nostra esperienza senza che qualcuno ce la insegni qual è la scelta migliore per noi qual è la dimensione migliore per noi e lo possiamo fare però solo se ci passiamo attraverso e attraverso questo viaggio secondo me noi riusciamo a connetterci moltissimo con un personaggio come ella che io sono convinta sia gemelli ma queste sono le mie convinzioni assurde l'altro libro che in realtà è una graphic novel che io vi consiglio tantissimo è la terra al cielo ai corvi di Teresa Radice e Stefano Turconi che io amo molto lo sapete li ho anche intervistati quest'anno quindi è stato davvero molto piacevole molto bello e perché la terra al cielo ai corvi perché anche al centro di questa novella di questo racconto c'è proprio il viaggio come la dimensione nella quale tutto il resto si annulla perché è vivere quel viaggio ed è passare proprio attraverso tutte quelle difficoltà quelle cose assurde che succedono nel viaggio quelle esperienze che puoi fare solo attraverso lo spostamento anche in condizioni assurde come quelle che proprio ci sono dentro la terra il cielo dei corvi si imparano cose e si sperimentano cose poi magari la prospettiva alla fine del viaggio può non cambiare anche se ci sentiamo arricchiti oppure proprio come succede in questa graphic novel la prospettiva cambia completamente scopriamo magari che è necessario rimettere in ordine le nostre priorità i nostri valori e anche magari i nostri progetti di vita e quindi vi do questi due consigli gemelli quest'anno abbiamo un oroscopo fantastico sinceramente per quelli che sono i sentimenti del segno secondo me quindi dai è tutta passerei al cancro che è un segno che io ho molto ben presente avendoceli in casa e niente che dire dalla mancanza di emozioni noi passiamo a un segno come il cancro che tendenzialmente ne ha un po' troppe il 2020 ripeto un po' come tutti però su alcuni segni è stato molto più più acuta questa cosa ovviamente è stato l'anno dove il cancro si è scontrato con tantissime cose in primis le proprie insicurezze secondo me nel 2021 ci si può permettere un attimo di abbassare la guardia che non so come e secondo me l'invito è quello di iniziare a godervi un attimo di più quello che succederà con un atteggiamento un po' più rilassato siete in un punto dove alla fine potete essere un po' più pacifici e un po' più liberi dal timore di non essere abbastanza che vedo sempre ripercorrersi nei cancro dopo anni nei quali Plutone era in opposizione e dal 2018 ci si è aggiunto pure Saturno e che sono stati in parte uno dei motivi per cui queste insicurezze sono emerse molto forti negli ultimi anni Giove e Saturno finalmente smettono di essere in opposizione e si spostano nell'ottava casa che è il luogo diciamo che stimola la trasformazione il consiglio che vi do per il 2021 e dovete proprio marchiarve la fuoco sulla fronte è proprio di fregarsene e non dare priorità a ciò che pensano gli altri o a ciò che desiderano soprattutto gli altri perché non è più da loro che dipende la misura del vostro valore e non è mai di peso da loro però negli anni scorsi avete faticato a non dare più importanza a ciò che veniva dall'esterno piuttosto a ciò che pensavate di voi sarà un anno dove vi focalizzerete tantissimo sulle vostre libere scelte senza condizionamenti esterni e quindi secondo me è una figata per voi ci sarà bisogno però per fare questo anche di distaccarsi da alcune abitudini e per voi è molto faticoso io me ne rendo conto però è un po' davvero l'unico modo per procedere per andare avanti e alla fine secondo me non sarete nemmeno così spaventati dal farlo come magari poteva essere in passato e anche riguardo alla vostra vita intima c'è assolutamente un balzo in avanti molto positivo che non necessariamente significa in relazione con un'altra persona o con altre persone ma anche lavorando molto su voi stessi c'è questa sorta di approfondimento questo viaggio di approfondimento un po' della vostra vita interiore dei vostri desideri delle vostre necessità e darete ascolto per una volta a quello che volete veramente questo vi porterà ovviamente ad avere anche quel po' di autonomia no? che non dipende più dagli altri e secondo me questa sensazione sarà molto rinfrescante però sarà come aver ritrovato un po' la libertà finalmente ve lo auguro e ve lo auguro le aree in espansione nel 2021 sono un po' queste quelle di crescita quelle di espansione l'intimità personale e rivolta ad altre persone il supporto emotivo e finanziario le attività in generale che mettete in campo la crescita personale sarà proprio il centro del vostro diciamo lavoro sul 2021 l'apprendimento la visione del mondo e le prospettive che secondo me è molto interessante perché proprio questo sarà un anno dove voi cercherete di trasformare in positivo molti aspetti che fino ad ora avevate un po' sacrificato quindi secondo me voi dovete leggere storie quelle storie di personaggi e personaggi che trovano la sicurezza dentro di sé che a un certo punto si distaccano dalle relazioni con gli altri per sentirsi affermati e riscoprono un vero e proprio senso di autodeterminazione quindi due titoli il primo è quasi necessariamente la biblioteca di mezzanotte di Mark Hyde è un libro molto caldo molto dolce che secondo me soprattutto se anche avete a che fare con la salute mentale insomma vi ritroverete in tanti pensieri però è un po' la parabola di chi fatica a trovare delle condizioni terne per fare questo salto e cerca sempre qualcosa all'esterno che cambi quando ovviamente l'unico viaggio che dovete fare è chiaramente dentro di voi e nei vostri riguardi dovete davvero pensare in primis a ciò che desiderate un po' come accade alla protagonista della biblioteca di mezzanotte a un'idea che sembrava chiara ma che nel corso del romando subisce delle brusche sterzate e quindi io ve lo suggerisco tanto l'altro libro che vi suggerisco anche se apparentemente potrebbe sembrare un suggerimento strano è Medea di Christa Wolf perché perché Medea è tra l'altro una delle mie tragedie preferite greche già a parlare di tragedia col cancro c'è un'affinità ma comunque secondo me Medea è uno di quei personaggi che raccontato soprattutto dalla Wolf riesce ad acquisire ancora di più quel senso di autodeterminazione lei che è stata abbandonata lei che è stata diciamo messa in secondo piano per preferenza di altro e questo poteva condizionarlo questo l'ha condizionata rendendola ovviamente una figura quasi mostruosa nella tragedia originale ma invece quello che secondo me dobbiamo assorbire da Medea è il suo senso di sicurezza acquisito quel senso di autodeterminazione incrollabile poi vabbè Christa Wolf è bravissima ed è profondissima quindi è chiaro che io ve lo suggerisco tantissimo e secondo me questi sono due buoni consigli che voi cancro dovete un attimo elaborare assorbire e poi spinti in avanti passiamo al leone ok il leone viene da un paio d'anni di crisi possiamo definirli che è una crisi sia personale che un po' di identità cioè queste sono due cose che non vi sono mancate è molto strano per il leone di solito equivale a una persona che tendenzialmente è al centro dell'attenzione è ben voluto a questa sorta di energia positiva che emana o comunque attrae è fascinante è carismatico eppure è andato un po' tutto a rotoli negli ultimi due anni come per tutti gli altri segni ma per voi è stato strano proprio per alcune persone si è diciamo riflesso in una sorta di insoddisfazione generale nella propria vita lavorativa sentimentale di immagine di comunicazione di amici insomma tanti aspetti per altri invece è diventato una vera e propria crisi di identità chi sono ora dove voglio andare ora cioè il problema è diventato l'ora cioè quello che siete diventati dopo tutti questi anni vi siete un po' sentiti persi e smarriti che per voi è strano è innaturale quasi siete un po' tendenzialmente invece padroni delle situazioni nelle quali vi trovate e quindi ora è arrivata un po' l'ora di riaccendervi e di start your engine e cercare anche di riprendere in mano quello che vi aveva messo in difficoltà se questa sorta di crisi aveva davvero reso molto fiacca e svilito la vostra lotta cioè il vostro continuare insomma a perseguire degli obiettivi un po' perché vi sentivate demotivate oppure perché vi sentivate stanche oppure perché vi sentivate spaisati non sapevate bene dove volevate andare ora secondo me nel 2021 avrete gli strumenti per vedere tutto in prospettiva con più chiarezza tornare un pochino alla determinazione che non vi è mai mancata con coraggio guardate bene il 2021 non avrà tutte le risposte pronte davanti a voi ci saranno lo stesso numerose incognite ma secondo me quello che non vi mancherà è l'attitudine la determinazione la voglia di sfidare ciò che prima magari non vi sentivate pronti a fare e questo sarà il grande cambiamento rispetto agli ultimi anni troverete la spinta giusta la giusta determinazione per fare quello che volete fare e ve ne fregherete anche parecchio di ciò che pensano gli altri che è sempre giusto perché in fondo un po' aveva cominciato a condizionarvi anche questo quindi vi troverete un pochino ambivio da un lato ciò che avete creato costruito sul quale avete lavorato vi piace vi convince ed è ciò che volete allora a quel punto andate avanti perseguitelo ancora con più determinazione coltivate questi progetti e crescete insieme a loro portateli avanti però con una nuova consapevolezza che è quella che avete acquisito dopo tutte queste difficoltà ma se ciò che invece state vivendo non vi convince ciò che avete creato non vi soddisfa è ora di cambiare strada è ora di abbandonare è ora di cambiare e di trovare qualcosa che non vi faccia più sentire bloccati secondo me quest'anno quella sicurezza che avete lasciato abbastanza da parte governerà moltissimo questi aspetti e vi dirà quella fiducia necessaria anche per le relazioni ci sono spinte in avanti molto propositive e positive in generale in generale perché vi sentite anche più comunicativi quindi risultate anche affascinanti e attrattivi rispetto alle altre persone quindi anche nelle amicizie nei gruppi di lavoro eccetera vedrete che vedrete cose positive allo stesso tempo anche nelle relazioni fino a dicembre avete un'aura super ottima quindi che siano nuove relazioni o il perseguimento di quelle attuali insomma ci sono buoni presupposti le aree che avete in espansione nel 2021 sono appunto le relazioni quindi partnership e amicizie anche avrete più fortuna in temi di trattativa accordi finanze insomma lavoro in generale e proprio l'intimità la condivisione la sessualità saranno aree molto positive per voi e soprattutto il supporto non vi mancherà quindi insomma secondo me questo è un oroscopo per voi o comunque è quello del quale avevate bisogno quindi consigli che vi do riguardo alle letture sono sicuramente storie che parlano di imprese ma che parlano di imprese dove a un certo punto i dubbi vengono lasciati alle spalle sarà un anno sicuramente duro complicato da alcuni punti di vista perché vi sfiderà però voi dovete pensare a come vorrete trasformarvi quindi io vi suggerisco sicuramente il porto proibito di nuovo di Stefano Turconi e Radice perché è un viaggio un po' la riscoperta di se stessi e soprattutto del riuscire a ritrovarsi e a ritrovarsi nei modi giusti però chiaramente questo non è un percorso facile quello del nostro protagonista che insomma scoprirà cose abbastanza inquietanti però non si fermerà mai ed è questa una cosa assolutamente importante che voi un po' dovete ricordare quantomeno perché non è qualcosa che vi manca l'altro titolo che vi suggerisco un po' in maniera folle è La guerra dei papavere di R.F. Kuang a me è piaciuto moltissimo perché è un libro crudissimo quindi l'alert è violenza da pagina 5 no forse da pagina 2 e allo stesso tempo secondo me la nostra protagonista cioè Rin ha questa forza di rompente di non lasciarsi abbattere nonostante tutte le difficoltà e diventa un vero e proprio catalizzatore di energia non sei per positivo ma a noi non interessa questo a noi interessa che lei a un certo punto riesca davvero a cogliere quella forza a fare quei salti che voi avete necessità di fare di riappropriarvi un po' non sarà semplice ma tenete botta che sarà un anno intenso passiamo alla vergine che è un segno che io conosco come le mie tasche però detto ciò venite da un anno molto faticoso non che gli altri abbiano avuto un anno facile assolutamente ma voi siete state come dire particolarmente sotto stress e siete arrivate davvero molto stanca alla fine dell'anno comprensibilmente perché ovviamente se ci pensate in un anno dove tutti i piani di chiunque sono saltati per voi che invece dovete avere la situazione sotto controllo e pensare a tutti diciamo i risvolti che potrebbero avere anche i risvolti dei risvolti vi ha messo parecchie difficoltà insomma vi siete sentiti un po' come se tutto ciò che avete cercato di fare fosse stato un po' inutile perché voi che avete la necessità di avere un po' tutto sotto controllo perché è proprio la vostra natura insomma siete persone propositive persone che comunque vogliono avere delle opzioni vogliono tenere conto anche di tutti i minimi dettagli inutili che sapete quanto ci avesse risparmiato delle rotture di balle ma non lo avete fatto però noi apprezziamo questa cosa di voi e in un anno dove tutto è saltato per aria dove non ci sono certezze avete fatto molta fatica a saltarne fuori perché esattamente questa è la vostra tendenza soffermarvi sulle soluzioni sulla propositività ma anche valutare tutto ciò che non funziona avete cercato davvero qualsiasi modo per aggiustarlo di fissarlo di provare a portare a casa la baracca avete cercato di smontare ogni minima cosa del sistema e io davvero rega diciamocelo non oso immaginare quante rotelle siano saltate per le vergini quest'anno cioè proprio quindi innanzitutto questo 2021 io vi auguro un attimo di entrarci con un po' di relax entrarci proprio con un atteggiamento rilassato e cogliere un po' quella cosa che per voi è innaturale cioè il fatto che non potete avere tutto sotto controllo che penso sia un po' davvero l'unica lezione che vi portate a casa dal 2020 sarà necessario un po' per voi allentare le aspettative che avete nei vostri confronti che sono sempre altissime e questo ovviamente vi crea delle paranoie allucinanti e quindi la vostra necessità sarà quella di godervela un po' di più non siete soldatini quindi va bene il dovere però ogni tanto anche un po' il relax anche un po' del tempo per voi anche un po' spegnere il cervello vi può fare bene dovrete davvero cercare di non sorbarcarvi l'organizzazione di tutto non sorbarcarvi tutti i rapporti continuamente e quindi non lavorare su ogni singolo aspetto della vita perché diventa ingestibile chiaramente ma tra i due dovrete imparare un pochino a condividere trovare e individuare quelle persone che possono sobbarcarsi un po' la fatica insieme a voi i membri del team creare un po' il vostro team che sia un team al lavoro che sia un team in famiglia un team di affetti un team di amicizie un team di persone che magari ci sono nel momento in cui avete bisogno di fare una chiamata insomma mollate un po' la presa perché è ingestibile il modo in cui voi gestite le cose non è sostenibile ok ma trovate davvero compagne e compagne di viaggio che siano lì per voi e che in qualche modo vi sollevino un po' da tutta questa aspettativa che fate sempre ricadere su voi stessi anche perché non è che ce la fate a fare in modo diverso però dovete sforzarvi da quel lato lì questo ovviamente cioè vi darà anche lo spazio per poter sperimentare più cose per poter questo vi darà ovviamente spazio per poter sperimentare più cose sperimentare cose che magari avevate escluso a priori e magari vi darà anche l'occasione per scoprire cose che vi danno un po' una prospettiva diversa magari capirete che le opzioni di vita non sono già finite per voi ma magari ne arriveranno altre magari ne scoprirete altre durante il corso dell'anno e che ancora ovviamente voi non avevate avuto nel tempo nel coraggio nella voglia nella preparazione per poter sperimentare quindi davvero il mio invito è quest'anno spendete un attimo di più la lavorazione mentale sui dettagli sulla programmazione costante sull'avere tutto sotto controllo oppure anche per quelle vergine un po' procrastinatrici che è tutto all'ultimo ma tutto in delirio respironi e alleggeritevi un attimo anche perché avrete un sacco di opportunità dal punto di vista progettuale lavorativo e sarete anche persone molto produttive molto creative quindi questo sarà super positivo le vostre aree in espansione infatti sono il lavoro la salute la routine le abitudini che sarà proprio il perno centrale di tutto e le partnership le relazioni insomma i rapporti interpersonali lavorate molto su questi aspetti sono pochi ma sono fondamentali per voi mio consiglio davvero super spassionato per i consigli di lettura noi dobbiamo trovare delle storie dove a un certo punto è importante lasciare andare e circondarsi invece di persone fidate quindi io ho due libri in mente il primo è Neverwhere il nessun dove di Neil Gaiman che oltre ad essere uno dei miei libri preferiti sicuramente il mio preferito di Gaiman ci racconta una storia peculiare dove a un certo punto il controllo sfugge il controllo non esiste più e quindi bisogna arrangiarsi bisogna fare con quello che si può in quel momento e anche con chi c'è però questa sorta di squadra e di persone ritrovate o raccimolate per strade sembreranno folli ma saranno indispensabili e ci insegneranno soprattutto a guardare le persone che prima guardavamo anche con una certa reticenza come grandi compagni che ci sono davvero al nostro fianco i topi ci insegnano questo sempre fidarsi dei topi e dall'altro anche capire chi fa per noi chi è vicino a noi chi ci vuole bene e chi invece lavora contro di noi e contro il nostro interesse quindi questa è perfetta come parabola per quello che sarà il vostro lavoro l'altro titolo che vi suggerisco è Pantomime di Laura Den che è un libro secondo me dolcissimo con tanti problemi ma che non è l'importante Mika Gray è un personaggio molto particolare con una storia durissima ma la cosa che noi impariamo da Mika è una cioè a scegliersi le proprie persone la propria famiglia le proprie condizioni Mika scappa nel circo e nel circo trovo una sorta di oasi felice siate dei Mika Gray siate capaci di selezionare di scegliere e di pensare anche al vostro bene ogni tanto e a ridassarvi un attimo passiamo alla bilancia io già vi preannuncio che questo è l'anno della bilancia a mio parere secondo me quest'anno sarà un grande anno per voi probabilmente in generale i segni d'aria avranno un anno molto importante per una serie di condizioni eccetera la bilancia secondo me avranno un anno della madonna per la bilancia sarà un anno di grande salto in positivo siete praticamente destinati a tutte le botte di culo dell'anno e avete praticamente già vinto il premio confidiamo tutto su di voi quindi molto bene insomma si preannuncia bene l'anno perché in pratica se avete sempre un po' faticato a camminare un po' con le vostre gambe se vi siete sentiti un po' insicure insicure per diversi aspetti questo è l'anno del salto questo è l'anno proprio dove è arrivato il vostro momento e poi un po' perché avete timore di allontanarvi dalle cose che vi facevano sentire al sicuro cioè insomma capisco che sia complicato di staccarsi dai porti sicuri un po' perché ci si caga un po' sempre sotto quando si fanno cose si cercano di intraprendere nuove cose nuovi progetti nuove relazioni eccetera che vi fanno sentire come se stesse facendo il passo più lungo della gamba come se fossero più grandi delle vostre capacità ma alla fine sempre di dubbi e di insicurezza si tratta infatti proprio dal 2018 le cose le cose hanno iniziato un po' a cambiare e merito di saturno e infatti proprio merito di saturno che ha raggiunto plutone in capricorno hanno davvero agito e lavorato moltissimo sulle vostre paure e sui vostri timori però vedetela come una palestra una palestra di merda ma comunque una palestra quando dico davvero che confidiamo in voi è perché davvero il 2021 sarà l'anno dove queste sicurezze le mettete un attimo da parte e perché dovete davvero puntare tutto ciò che avete sempre avuto paura di puntare su voi stessi scommettete su di voi sulle vostre capacità sui vostri sogni sui vostri progetti su tutto ciò che avevate lasciato lì nell'angolino perché faceva paura non abbiate paura pensatela un po' come una sorta di scommessa dove siamo tutti dalla vostra parte basta davvero giocare un po' ad anticipo avere un sistema flessibile per quelli che sono i vostri progetti quindi non andate sull'opzione A appunto abbiate sempre un piano B non arrendetevi alle prime difficoltà e fatevi trovare pronti non fatevi mancare le risorse ecco se praticamente vi tirate indietro ora buttate tutto il lavoro fatto in questi anni e tutte le difficoltà passate in questi anni cioè senza pressione comunque rega avete proprio questo lato creativo giocoso sperimentale che sta emergendo fortissimo in fondo siete un segno d'area che è un segno che come per i gemelli appunto perché mi ci riconosco anche io ha bisogno a un certo punto di comunicare di andare verso l'esterno voi vi siete un po' tenuti tutto dentro avete un po' atteso ora coglietene i frutti anche dal punto di vista sentimentale vita romantica e cose di questo tipo i segni sono molto buoni perché ci sono tanti incontri previsti durante l'anno anche perché meno del 2020 è difficile insomma è un periodo dove da un lato vi sentite sicuri motivati e dovete perseguire quelli che sono i vostri progetti dall'altro però avete anche un pochino il tempo e la voglia di tirare il fiato di divertirvi di rilassarvi anche di godervela un po' di più che è giusto così quindi in ultimo le vostre aree di espansione nel 2021 sono lato intimo romantico la creatività e l'espressione di sé l'intrattenimento il lavoro e la routine salute benessere abitudini nuovi progetti secondo me meglio di voi quest'anno non c'è nessuno nello zodiaco quindi no pressure allora quindi rega basta elogi perché da un lato se no andate nel panico vi cagate un po' addosso però quando si tratta di imprese impossibili io ho in mente solo due libri uno si chiama sei di corvi e l'altro si chiama gli inganni di locchi lamora ve ne devo parlare sì ve ne parlo allora sei di corvi è questo bellissimo romanzo duologia per giovani adulti new adults dove sei squinternati cercano di portare a casa un'impresa che nessun altro vuole fare perché è un'impresa ovviamente che non può andare a finire bene e nonostante siano sei scappestrati alla fine beh roba e poi c'è gli inganni di locchi lamora se da un lato abbiamo i drags cioè gli scarti dall'altro abbiamo i bastardi che sono questo gruppo poco raccomandabile che è capitanato da locchi lamora che stanno a camorre a fare i delinquenti succede una tragedia veramente dopo l'altra ma ma noi tifiamo per loro perché noi tifiamo per queste cose e ci tiferemo sempre quindi raga allora io vi ho dato i miei bimbi in mano ok non lo faccio con leggerezza fatene buon uso andate perché quest'anno siete i miei drags e io so che ce la farete passiamo allo scorpione abbiamo superato la metà sì più o meno non so neanche io quanto durerà sto video va bene scorpione vorrei darvi subito delle buone notizie quindi ve le do subito questo sarà un anno un po' complicato per voi perché dovrete affrontare proprio la vostra più grande difficoltà le vostre più grandi paure o comunque la vostra sfida più difficile nei vostri confronti cioè lasciare andare il cambiamento per lo scorpione è tendenzialmente super destabilizzante però pensate davvero a cosa vi sta stretto a cosa non vi va più bene a cosa non vi rende felici questi sono i punti su cui dovete lavorare nel 2021 piacevole non credo ma lo dovete fare ecco di solito di fronte alle difficoltà o diciamo alle scosse che possono capitare nella vita voi ergete la muraglia cinese attorno impenetrabile quindi le cose non esistono non si può più fare è arrivato proprio il momento di ripensare e ripensarvi che sono due atteggiamenti che dovete un po' avere sia nei confronti di ciò che vi succede attorno ma soprattutto guardare molto bene dentro di voi cioè in pratica voi non siete ostaggio di nessuno se non di voi stessi ma penso lo sappiate urano e saturno che fondamentalmente sono i nostri re dei cieli governeranno queste transizioni nel vostro zodiaco però allo stesso tempo cioè è un processo che è iniziato questa trasformazione è già iniziata con la fine del 2020 loro stanno cercando in qualche modo di influire su questa sorta di necessità di sbloccarvi da queste situazioni dove voi vi impantanate in quella che poi considerate stabilità che stabilità non è molto spesso è solo voglia di sicurezza però sapete benissimo che o non vi soddisfa o è un'illusione perché è solamente precaria passate all'azione createvi dei nuovi punti fermi ragionate soprattutto su ciò che non vi va più bene uscite dalla comfort zone che è un paradosso per gli scorpioni trovate esperienze nuove trovate nuove cose stimolatevi cioè dovete essere voi praticamente dovete fare un lavoro durissimo su voi stessi per togliervi da quelle cose che avete assorbito talmente tanto che ormai per voi quella è la normalità che non lo è più e poi quando io vi dico che dovete sperimentare non è che vi sto dicendo che tutto andrà liscio non sarà così però alla prima difficoltà non dichiarate guerra alla Polonia che cioè per voi è abbastanza naturale no con calma non partite a testa bassa e duri come il muro ma cercate di portare pazienza di riflettere su ciò che vi sta succedendo e portatevi a casa davvero da ciò che vi sta succedendo anche gli attriti anche dagli attriti su cui voi andate dritti come proprio un fuso delle lezioni elaborate con calma datevi proprio il tempo di elaborare di assorbire solo dopo potrete decidere valutare avere tutti gli strumenti per poter capire se è qualcosa che fa per voi anche perché poi altre cose positive vi accadranno soprattutto nella vita familiare nelle relazioni perché stringerete legami più forti riuscirete ad essere un po' più comunicativi e troverete il supporto adeguato dalle persone che vi vogliono bene che vi circondano secondo me questo sarà un anno un po' complicato per voi perché vi scontrerete con voi stessi che fondamentalmente è il muro più duro ma vi servirà tantissimo quindi non demordete non vi sentite mai spaesati uscite un pochino da quello che è la vostra comfort zone a piccoli passi ma non spaventatevi al primo errore alla prima tragedia non è quello servirà fidatevi di me servirà le vostre aree destinate ad espandersi migliorare crescere nel 2021 sono infatti la famiglia la casa il senso di sicurezza di protezione la creatività l'espressione di sé e anche diciamo la vita intima quindi insomma secondo me cose buone succederanno dovete solo avere la pazienza di fare questo questo viaggio un po' traumatico quindi visto che dobbiamo un attimo soffermarci sul riflettere prima di agire e dobbiamo anche uscire dalla comfort zone io vi regalo due titoli cioè vi regalo virtualmente due titoli uno è notes and crosses il bianco e il nero di Mallory Blackman perché? perché in questo libro siamo in questa distopia stravolta molto intelligente molto interessante secondo me e appunto intanto ci sono cose che abbiamo talmente interiorizzato assorbito che uscire da quelle è complicatissimo e questo libro lo mette proprio in un'evidenza talmente spiaccicata in faccia al lettore che lo trovo davvero super forte è una storia dove ci si impara a conoscere si impara a riflettere e a un certo punto proprio come dicevo anche prima prima magari di partire per il fronte si aspetta un attimo e si ragiona un attimo di più per cercare la soluzione migliore che è un po' quello che dovete fare voi poi assurdamente io vi sto per suggerire questo titolo che non c'entra nulla col fatto di pensare prima di agire ovvero Gideon la nona ma ora vi spiego perché oltre a essere in uno dei miei romanzi dell'anno perché è bellissimo folle eccetera Gideon deve proprio imparare a non spaccare la testa ad Arrow e Arrow a non uccidere Gideon quindi noi vediamo proprio in questa metafora tra Arrow e Gideon quello che è il vostro lavoro da fare se Arrow e Gideon non si sono spaccati la testa nel 2020 voi potete non farlo nel 2021 grazie passiamo al sagittario che arriva anche come segno molto affaticato nel 2021 come tutti gli altri ma anche il sagittario ci arriva particolarmente affiaccato soprattutto perché il sagittario viene da una serie di anni dove non gliele hanno veramente fatta passare nessuna e per ogni distrazione per ogni difficoltà per ogni errore di valutazione c'è chi ha presentato il conto davvero come se non gliene lasciassero mai mai passare una ed è stato difficile chiaramente da gestire è stato disumano lo possiamo dire però questo è stato disumano come processo però allo stesso tempo ha indurito in qualche modo il sagittario e lo ha reso pronto comunque preparato alle sfide a venire è stata una palestra impietosa sì cioè la risposta è sì è stato faticosissimo però vedetela così è un lavoro che alla fine è servito io ne sono certa è stato come il viaggio per portare l'anella al monte fatto cioè l'abbiamo portato è stato un viaggio di merda però alla fine il peggio è passato però voglio dire non è che poteva essere una passeggiata cioè anche voi dovevate avere la vostra quantità di nascull e orchi da combattere beh alla fine ne abbiamo sorpassati ora potete tirare un po' un respiro di sollievo però non è finita orecchie dritte quest'anno avete un nuovo obiettivo che è un po' una cosa che avete lasciato molto da parte negli ultimi anni un po' perché cioè ripeto eravate anche parecchie difficoltà quest'anno il vostro obiettivo è la comunicazione non nascondetevi non chiudetevi a riccio non so non rinchiudetevi nella torre più alta del castello non sentitevi isolati ed esclusi ma ritagliatevi prendetevi quegli spazi perché cioè una cosa basilare che dovete imparare è che se non comunicate le persone non sanno come state non sanno cosa pensate non conoscono le vostre idee l'unico modo per farlo è interagire esprimetevi fatevi sentire fatevi vedere condividete le vostre idee i vostri pensieri questo vi aiuterà davvero tantissimo anche a capire quali persone tenere al vostro fianco quali persone vi supporteranno vi vorranno bene avranno a cuore il vostro interesse vi ascolteranno ovviamente e vedrete che saranno assolutamente felici di questa vostra apertura nella comunicazione nell'interazione anche perché davvero ripeto se non parlate non chiedete non dite quello che pensate è difficile che le persone possano sapere per filo e per segno quello che sta passando nella vostra testa e sapere come interagire e gestirvi cioè è comunque complicato quando manca la comunicazione proprio davvero quest'anno è il momento nel quale dovete essere più presenti dal punto di vista della vostra voce farvi sentire diffondere le vostre idee e in questo modo raggiungerete sicuramente meglio gli altri li farete sentire meglio perché voi vi sentirete meglio e liberi di esprimere sarà un po' difficile ma io non ho dubbi che voi porterete a casa la missione ecco l'unica cosa che dovete tenere ben presente è che questa apertura non deve diventare per voi totalmente innaturale ecco non cercate di essere troppo che non è la vostra natura in particolare ecco cercate comunque di tenere presente quali sono i vostri limiti e di conoscervi non cercate di fare troppo perché poi potete ricadere in situazioni che vi fanno sentire anche confusi o dove non vi sentite a vostro agio ecco tenete ben a mente i vostri parametri e i vostri limiti ma non lasciate che siano quelli a governarvi andate proprio fino in fondo e vedrete che andrà alla grandissima infatti proprio le vostre aree in espansione che fioriranno e cresceranno nel 2021 sono la comunicazione gli spostamenti perché potrebbero esserci diversi viaggi diverse esperienze quest'anno l'atteggiamento quindi voi lavorerete moltissimo sul vostro atteggiamento sulle vostre prospettive gli interessi personali ma anche la famiglia e le persone che vi stanno attorno i legami questo secondo me è super ottimo quindi a livello di consigli di lettura io vi suggerisco due storie che hanno a che fare con il ritrovare la propria voce o il trovare la propria voce farla sentire e farla diventare qualcosa di centrale una di queste storie chiaramente la suggerisco praticamente sempre perché secondo me è uno dei libri più belli che io abbia mai letto negli ultimi anni per ragazzi ed è The Poet X di Elisabetta Tevedo e è una storia magnifica toccante scritta in forma lirica e quindi non so come dire quando leggete questa storia capite quanto la necessità di far emergere la propria voce diventi una parte fondamentale nella vita di Xiaomara e questo per me è importantissimo è stata una lezione toccante dura ma necessaria e questo è un po' quello che dovete fare voi allo stesso tempo vi suggerisco che On The Come Up di Angie Thomas che sempre sulla scia di The Hate U Give riprende un po' questo tema centrale del far sentire la propria voce e chi più della nostra protagonista che vuole cantare si sente silenziata continuamente ecco voi dovete fare un po' come Bri cioè dovete a un certo punto prendere il microfono e spaccare e non sentirvi inferiore agli altri non sentirvi in difetto non sentire come se dovete tenere tutto dentro basta con questa fase emo della vostra vita le persone hanno bisogno di sentirvi e sarà super positivo io confido in voi poi che dire alle amiche e agli amici del capricorno poteva andare meglio sì lo sapevate anche voi ma eh astrologicamente parlando questo doveva essere l'anno dove voi prendevate un po' in mano le redini del vostro grande progetto che è un progetto di vita un progetto lavorativo un progetto creativo insomma doveva essere l'anno dove finalmente voi quella cosa la portavate a casa o comunque dove iniziavate a lavorarci senza troppe ansie e invece è stato il 2020 e ok e quindi insomma direi che non sappiamo come andate non è nemmeno colpa vostra che è strano ma non è nemmeno colpa vostra piuttosto è stato davvero un anno che ha rimescolato molto le carte in tavola ha anche davvero allontanato traguardi che erano molto vicini o sembravano più vicini sembravano raggiungibili per voi è stato un anno che ha creato ovviamente grande confusione cioè già l'ho fatto a tutti ma a voi in particolar modo perché sentivate che un po' c'eravate no e poi a voi che amate tutto tranne che avere la terra poco salda sotto i piedi cioè dove siete dei testoni e comunque con certezze cioè ve le meritavate anche sono sincera e poi anche per un segno come il vostro che è davvero flessibile come una colonna di granito davvero lo avete accusato parecchio soprattutto perché davvero poi l'ostinazione e la determinazione non vi manca eravate anche in una fase dove secondo me un pochino dicevate che era arrivata anche l'ora quindi avevate anche quella tranquillità di dire ho lavorato così tanto per qualcosa finalmente no no insomma tutte queste buone qualità che avete cioè quella di essere duri e puri insomma non sono bastate purtroppo perché ripeto è il 2020 è stato purtroppo le caratteristiche personali non sono stati sufficienti c'era ben altro là fuori perché tutto era caos e quindi purtroppo avete dovuto rimandare un po' la vostra gratificazione ecco per voi che davvero non avete di vostra natura l'elasticità nel DNA cioè questo periodo dove è stato praticamente ferocemente e brutalmente necessario adattarsi per voi ha significato anche una sorta di senso di smarrimento e potreste anche a un certo punto aver inseguito alcuni traguardi giusto per dimostrare che ce l'avevate fatta no? e dire ok almeno qualcosa l'ho portato a casa però diciamo che alla fine un po' tutto è servito quale palestra migliore se non quella delle badilate in faccia avete avuto più tempo per riflettere sul vostro percorso su dove volete andare su quali siano i progetti migliori per voi spero avete imparato o comunque avete in qualche modo immagazzinato informazioni su come trasformare i vostri punti deboli in punti di forza a chiedervi un po' di più che cosa volete davvero per voi stessi e in fondo queste sono state delle lezioni importanti dei momenti dove almeno siete un attimo fermati avete ragionato sulle vostre prospettive e su cosa potevate un attimo cambiare che è dura ma ok ora un attimo tiriamo un sospiro di sollievo vediamo un attimo questo cielo come se si fosse rischierato e finalmente vediamo tutte le stelle quanto meno lo facciamo con maggior lucidità seguite quelle e non perdetevi non lo fate per timore che succeda un altro 2020 e soprattutto non abbiate timore di dover un attimo rimettere mano ai vostri piani ai vostri progetti doverli rendere un attimo più adattabili e renderli magari più flessibili di quanto voi abbiate mai concesso a voi stessi di essere un po' più flessibili o comunque quantomeno passate da granito a acciaio non lo so un qualcosa che sia leggermente più duttile in fondo qua oltre a lavorare sul vostro progetto punterete più in alto avrete proprio la necessità di dire ok un altro anno de merda quindi ora puntiamo ancora più in alto e secondo me è quello che dovete fare anche perché avete un po' la consapevolezza e anche avete un po' acquisito alcune lezioni che vi danno anche spazio per dedicarvi al divertimento un attimo a tirare un sospiro di sollievo e proprio sentite come se questo bisogno di sicurezza di comfort che insomma avete un po' bisogno di quelle per avere tutto sotto controllo un po' non vi basta più vi sta stretto perché volete qualcosa di più vi meritate qualcosa di più e vedrete che imparerete sempre meglio a adattarvi a puntare in alto e a concretizzare io confido in voi infatti le aree in espansione per il capricorno nel 2021 sono il denaro gli effetti personali la comunicazione il talento e l'apprendimento che secondo me chiudono un po' il cerchio voi avete bisogno di apprendere alcune cose e smussare un po' gli angoli dall'altro però avete immagazzinato abbastanza lezioni per cercare di tradurle in azione per chi non è spaventato nel buttarsi in mezzo alle tempeste più feroci però allo stesso tempo deve anche un po' imparare a smussare i propri angoli e a rendersi un po' più flessibile ho due suggerimenti il primo è la raccolta di racconti con varie raccolte interne che si chiama Nell'altro dell'alchimista di Angela Carter è un'autrice che io amo molto e che sicuramente potete recuperare anche nei romanzi come Notti al circo eccetera eccetera ma perché nell'altro dell'alchimista ma soprattutto Bloody Chambers è estremamente importante perché in queste storie impariamo a salvarci da sole e soprattutto anche a salvarci quando stabiliamo dei legami quando tendiamo una mano quando abbiamo la capacità di creare rete e capire insomma fare un po' cernita tra ciò che ci fa bene e ciò che non ci fa bene però puntare in alto non fermarsi e questo secondo me è una cosa che potrebbe essere un film rouge di tanti racconti di Angela Carter e quindi insomma nel mondo grottesco che ci presenta noi teniamo ben a mente qual è il nostro lucino qual è la nostra insomma stella guida fatelo anche voi l'altro titolo che vi suggerisco invece è Mercedes di Daniel Queio perché chi più capricorno di Mercedes di Daniel Queio perché Mercedes è una donna impiegabile ok che dovrà passarne veramente tante per riuscire a capire che forse deve fare meno la stronza ecco io non vi sto dicendo che voi rientrate in questa categoria però è un libro molto amaro molto divertente e allo stesso tempo che comunque ci presenta anche una protagonista che è fondamente molto dura con gli altri e con se stessa un pochino secondo me sono cose che ve le richiameranno è comunque un viaggio molto divertente quindi super suggerita allora siamo al penultimo segno che è l'acquario e che quest'anno ha sicuramente subito molte difficoltà perché è l'acquario di natura diciamo che vuole essere presente a tutto parlare con tutti avere tutto sotto controllo perché vuole fare tutto e poi ovviamente non è possibile questo 2020 è stato ancora più improbabile e ovviamente però non è possibile essere presente ad ogni cosa ed esserci anche per tutti e voi che non siete proprio diciamo cintura nera nel campo delle scelte perché tendete ad evitarle il più possibile come la peste e insomma è stato un anno un po' strano per voi dove siete stati costretti a fare alcune scelte contro la vostra volontà un po' diciamo è andata incontro un po' alla vostra natura del fatto che non posso scegliere meglio qualcuno sceglie al posto mio ok però no e al di là di quello che insomma è arrivato dall'esterno che vi ha costretti a un certo punto insomma a decisioni non prese da voi queste scelte che fanno parte invece di altri aspetti della vostra vita spesso o non le avete preso le avete prese con reluttanza molto spesso siete stati molto indecisi su quale strada intraprendere in quanto in realtà più che qualcosa per voi stessi avete in realtà cercato qualcos'altro approvazione molto spesso senso di colpa la necessità di stare al centro a pagarvi un po' l'ego sentirvi importanti e soprattutto non deludere le aspettative degli altri capite che questa cosa non è gestibile perché tutto questo poi ha reso le cose ancora più incasinate nella vostra testa quindi ecco l'obiettivo per il 2021 è e rimane quello di mettervi al centro delle vostre scelte compiere queste scelte per il motivo migliore per voi non perché avete bisogno di una gratificazione immediata che non vi costruirà nulla dovete governare quello che state progettando volete progettare a misura di voi stessi non in base ai desideri alle necessità di altre persone secondo e seguendo le vostre regole nel 2021 Saturno torna insieme a Giove diciamo a governare un po' l'acquario e quindi a creare espansione a creare trasformazione quindi saranno i vostri temi centrali dell'anno avete molto spesso messo davanti o anteposto ai vostri desideri diciamo il dovere senso del dovere la disciplina che ha però spesso creato situazioni confuse che vi ha messo però proprio in quella situazione dove gli acquari non devono mai stare cioè quella voglia di voler accontentare tutti però allo stesso tempo la mancanza di coraggio nel guardare dentro se stessi e nel capire che tutto questo non può essere fatto sempre ora dovete focalizzarvi su di voi sui vostri desideri sulle vostre necessità sui vostri progetti sui vostri sentimenti e anche sulle passioni questo ovviamente è possibile solo se negli ultimi mesi avete lavorato e lavorerete anche nei prossimi per mettere a fuoco quelle che sono le vostre necessità primarie e i vostri desideri dovete mettere a fuoco dove volete andare come e con chi ecco ora dovrete trovare un po' quel bilanciamento tra ciò che sono le vostre necessità e ciò che sono i vostri desideri da un lato per non sobbarcarvi più di lavoro e di non sobbarcarvi di aspettative nel dover fare tutto e dall'altro perché dovete un po' bilanciare responsabilità con quelli che sono invece le vostre nuove necessità dovete semplicemente cercare un buon equilibrio e progettare progettare cercando dentro ovviamente di voi ecco l'oroscopo dell'acquario vede come aree in espansione appunto la personalità perché dovete davvero un attimo lavorare sul contenervi ma espandervi allo stesso tempo poi ci saranno sicuramente al centro le iniziative l'immagine che avete di voi stessi e la fiducia in voi stessi sono poche ma sono super centrati su quelli che sono i vostri obiettivi del 2021 quindi cosa ci servono storie che hanno come obiettivo quello di mettere al centro le proprie necessità e se stessi quindi io ho due titoli che vi suggerisco una è una graphic novel che si chiama la tettonica delle placche che è davvero molto divertente e da un lato ragione in realtà sulla maternità sui modi diversi di rappresentarsi eccetera però è una parabola molto corretta secondo me rapportata un po' all'acquario proprio perché a un certo punto tra le tante responsabilità tra l'essere il dover sentire come se dovessimo accontentare tutti voi un po' vi sentite sopraffatti però continuate a farlo quindi questo è una buona guida secondo me per capire come a un certo punto la nostra protagonista ha delle scelte abbastanza coerenti e ha bisogno di imparare a farle l'altro titolo che vi suggerisco invece è Futur che è una raccolta di racconti a cura di Jova Shego alle quali hanno partecipato ad esempio Jara e Speranza eccetera e Futur parla di riappropriarsi della propria storia in maniera completamente diverse con stili completamente diversi però che guardano sia le proprie radici che le proprie prospettive e da tutte queste storie diverse noi cogliamo anche delle sfumature e delle necessità anche diverse nel racconto secondo me questo è molto molto alderente al lavoro che dovete fare voi dell'acquario e io ho apprezzato tantissimi racconti quindi ve lo suggerisco chiaramente siamo incredibilmente arrivati alla fine infatti siamo arrivati ai pesci l'anno scorso ci eravamo detto che bisognava ripartire da zero riprogrammare un po' tutto o comunque tanti aspetti della vita che o non facevano più o al caso nostro oppure nostro come se fossi dei pesci che non facevano più al caso vostro o che iniziavano ad andarvi stretti quindi insomma che era un po' il caso di abbandonare avete dovuto lavorare molto sul come abbandonare una routine che iniziava davvero a starvi stretta quest'anno insomma diciamo che l'abbandono della routine è stata una forzatura però insomma di base era qualcosa che insomma spegneva un po' la vostra fantasia e iniziava a farsi sentire come faticosa l'ingresso di Giove e Saturno nella dodicesima casa dei pesci effettivamente però spingeranno moltissimo questa necessità anche per quest'anno di fare maggiore chiarezza che sia su persone su rapporti sul lavoro sulle proprie scelte e anche sulle proprie intenzioni lo scopo è rimane per voi anche quest'anno quello di capire cosa fa bene per voi cosa è giusto per voi e cosa conta davvero anche perché il 2020 a un certo punto per forza di cose ci ha obbligati a riprioritizzare un po' tutto ciò che fa parte della nostra vita ci ha messo in discussione un po' la nostra scala dei lavori e anche se in una maniera brutale comunque ha fatto in modo che queste cose emergessero infatti questo per voi in qualche modo è stato utile e continuerà a svilupparsi ad espandersi ancora di più nel 2021 infatti proprio anche dalla primavera tendenzialmente potrebbe nascere in voi ancora di più la voglia di intraprendere qualcosa di nuovo un cambiamento uno spostamento che sia al lavoro che sia dove vivete sia qualcosa di nuovo un hobby una passione che cercate di perseguire un corso ma anche una nuova relazione ecco nulla verrà sicuramente con grande facilità nulla è facile però voi dovete tenere botta e andare avanti perché sempre di più avrete chiaro quello che volete e lavorerete moltissimo su questi aspetti imparerete grazie a tutti questi percorsi a queste sperimentazioni a intessere curare relazioni dove in fondo state bene che vi fanno bene che vi arricchiscono e non relazioni dove voi fondamentalmente vi aggrappate a qualcun altro sperando che vi salvi da qualcosa che in fondo dipendere da un'altra persona non vi fa bene quindi anche perché la vostra necessità è proprio la chiarezza questo sarà il vostro obiettivo del 2021 sarà fare chiarezza con voi con i vostri desideri e rapportarvi ancora con più intensità con ciò che volete con ciò che volete anche progettare per gli anni futuri sperimentate perché questo è l'anno della sperimentazione non tiratevi indietro ma allo stesso tempo iniziate a guardare a lungo raggio anche perché poi in realtà nella vita privata comunque nell'intimità nella famiglia in ciò che riguarda proprio le relazioni ecco voi avete una forte area in espansione è un periodo sia per guardarsi dentro imparare cose cercare anche proprio di decodificare quali sono i propri desideri però allo stesso tempo anche per continuare a lavorare su le persone che ci circondano sui nostri rapporti sul trovare lasciare costruire nuovi rapporti o vecchi rapporti che forse non ci vanno più bene e questo lo potete fare solo se a un certo punto avete chiare quelle che sono le vostre priorità e le vostre necessità ma anche i vostri desideri che non vanno mai messi in secondo piano anche perché avrete e troverete la lucidità di crescere e di imparare da ciò che sperimentate nel corso dell'anno e nelle aree in espansione proprio del vostro oroscopo infatti ci sono la spiritualità il mondo interiore la salute emotiva e la vostra personalità l'immagine che avete di voi che sono tutte cose legate proprio a tutto il lavoro che dovete fare e dovete proprio elaborare nel corso dell'anno però c'è anche coraggio e iniziativa che sono quelle che un po' vi traghetteranno perché dovete proprio andarci con convinzione senza paura quindi ci servono due titoli che ci suggeriscono chiarezza e che perseguono il proprio scopo nonostante tutte le difficoltà quindi uno ve lo regalo ed è il mio libro dell'anno il titolo più bello che ho letto nel 2020 che è Piranesi di Susanna Clark perché? perché qua la chiarezza non esiste non c'è nulla di chiaro ma Piranesi va dritto confuso e Piranesi è il vostro personaggio dell'anno cioè siete un po' come lui vagate in questa casa trovate le sue stanze capite cosa sta succedendo decodificate ciò che sta succedendo non sentitevi mai smarriti non abbiate paura di sperimentare di provare e soprattutto di ascoltare voi stessi quello che vi dice ciò che avete dentro quello che volete davvero perché sarete sempre più autentici e sempre più vicini alla vostra natura allo stesso tempo vi suggerisco anche e poi basta un manifesto di una donna nera italiana di Esperanz perché Esperanz a Cusbimana ripanti ormai Esperanz e perché Esperanz fa un discorso che per me è proprio di una chiarezza ed è stato un discorso al quale io mi sono aggrappato che è sulla lucidità è faticoso trovare la lucidità quando si è persi in tanto altro e adesso io ve lo sto riadattando un pochino anche per questo e poi basta a un certo punto da dei tagli no recide alcuni rapporti recide alcune cose che non sopportiamo più alcune dinamiche che chiaramente hanno a che fare con la decolonialità col privilegio col privilegio bianco eccetera però questo discorso sulla lucidità sul fare chiarezza sul poter avere un momento di lucidità e di chiarezza è una cosa che voi dovete fare vostra e io ve lo auguro e dite basta quando vedete che qualcosa non vi sta più bene vi sta stretta e poi vabbè leggete Speranz perché lei è un corone immenso niente siamo arrivati alla fine di questo Orosco Fiction che mi sembra durato 70.000 anni e probabilmente è anche così timestamps con tutti i segni giù nell'infobox forse lo dovevo dire prima vabbè quindi diciamo i top quest'anno saranno i segni d'aria che mi rassicura perché ok nel senso che acquario gemelli ma una super bilancia quest'anno tirano un po' un respiro di sollievo hanno molti pianeti a favore e soprattutto verranno toccati nelle aree e verremo toccati nelle aree dove abbiamo più capacità quindi la comunicazione diciamo il porsi verso l'esterno che sarà una grande necessità insomma l'adattibilità e i pianeti giocano a nostro favore quelli forse più in difficoltà quest'anno perché dovranno lavorare tanto su loro stessi sono forse il leone e lo scorpione perché affronteranno queste sfide che sono importanti non negative badate bene secondo me non è una questione di negatività è una questione proprio di scontro complicato perché tutte le lavorazioni che noi facciamo su noi stessi sono complicate e sono sempre frutto di percorsi pieni di attriti e pieni anche di insomma resistenze non abbiate paura anche in questo niente stelle io davvero vi ringrazio per aver passato un altro anno insieme a me è stato molto bello quest'anno ci siamo davvero allargati tanto come famiglia ve l'avevo già detto nel video precedente o qualche video fa io non so davvero come ringraziarvi lo dico davvero di cuore perché io considero davvero questa una famiglia la mia famiglia internettiana la mia famiglia dell'internet vi ringrazio tanto vi auguro un 2021 sicuramente meglio del 2020 ma lì ci vuole poco penso manca solo un'altra pandemia globale quindi davvero tenete a mente sempre che insomma ne salteremo fuori anche se con qualche ossa è rotta ne salteremo fuori sono saltati fuori da quest'anno che è stato molto difficile molto complicato almeno per me io ho risentito moltissimo quest'anno è stato davvero brutto brutto come non lo era da anni ma soprattutto per alcuni motivi molto espliciti e sui giornali tutti i giorni quei numeri quei numeri a me hanno proprio davvero condizionato la vita perché non sono stati numeri per me come per tanti altri sono state persone io Stella vi mando un abbraccione come video di fine anno spero stiate bene starete bene e nel caso ci supporteremo a vicenda io vi ringrazio e ci vediamo presto grazie a tutti